All the radio station, Radio Bruno E poi le segne cadono, e poi non è più sabato Però quante figate, nelle discoteche abbandonate Discoteche abbandonate, Max Pezzali su Radio Bruno e Max Pezzali a Radio Bruno, ma prima la sigla Benvenuti, buon pomeriggio E facciamo, abbiamo già sentito il singolo Discoteche abbandonate di Max Pezzali Sentiamo la voce dell'artista Max Pezzali qui con noi a Radio Bruno Ciao Max Eccolo qua, ciao a tutti Stavo cercando, mi era venuto appunto a proposito di discoteche abbandonate Perché appunto parlando di quel mondo che non c'è più Delle grandi discoteche che poi appunto non hanno retto Al cambiamento dei tempi E alla cattiva pubblicità Poi che c'era attorno alle discoteche Ce n'era un'altra che mi ricordo che Filippo Neck mi aveva detto che ce n'era una famosissima nella zona di Sassuolo Dice che era un posto incredibile E poi anche lei adesso o negli ultimi anni era una struttura abbandonata Quindi chiedo a chiunque sia di zona dalla parte di comunicarmelo Nella zona mi viene in mente il picchio rosso che è stato proprio un'icona Era lui allora, era lui Un'icona degli anni 80-90 Che era quello che conoscevo anch'io Che quindi si partiva anche dalle mie parti per andare a Un po' come il Marabù di Reggio Emilia Quelli che erano famosi e Con mezza giornata di viaggio Perché poi all'epoca con i mezzi che avevamo a disposizione Più o meno era quello Però era quella lì, una delle discoteche più famose del tempo Beh a proposito di discoteche famose Anche lo Esis, qualcuno mi dice anche Adesso sono arrivato Potrebbe essere Ma ce n'erano tantissime Invece a Pavia ce n'erano due Tu per lanciare il tuo singolo hai organizzato un tour bus Proprio per ricordare i luoghi dove c'erano Parlo al passato queste due discoteche importanti Esatto, abbiamo fatto una sorta di gita scolastica Sempre anche lì una cosa dei miei tempi Perché le gite non è che si andasse lontanissimi Non si andava a Londra in gita Si andava in Umbria per dire Quindi siamo partiti da Milano E siamo andati appunto a Pavia E gli ho fatto vedere Ho fatto vedere un po' ai giornalisti Il mondo che mi aveva fatto venire in mente Diciamo Di fare questa canzone Da un lato le foto delle discoteche abbandonate Ma dall'altro anche La malinconia che si prova Quando si passa davanti a un posto Nel quale sei fondamentalmente cresciuto E trovi che ormai il mondo è talmente cambiato Da non essere più neanche riconoscibile quel posto lì Sono dei garage adesso Queste discoteche Che appunto si chiamavano Docking e celebrità a Pavia E che adesso sono diventate appunto Dei garage sotterranei E poi si facevano anche dei bellissimi incontri Tant'è che tu hai realizzato la canzone La regina del celebrità Certo perché alla fine era il luogo dove Non so come dire Ci si relazionava con il resto del mondo Cioè si partiva da casa Che c'erano le comitive C'erano le compagnie al bar O nei luoghi di ritrovo E si andava tutti insieme Quasi per farsi forza E per presentarsi al resto del mondo Al resto della comunità Diciamo così E lì si facevano gli incontri Guarda Però quella è la fidanzata Di quell'altro gruppo Bisogna stare attenti Cioè era un mondo completamente diverso Era dove ci si esibiva anche un po' No il luogo Sai che io Max crescendo Ci sono rimasto un pochino male Perché la canzone regina del celebrità Io pensavo nella mia testa di ragazzino Che voi fosti in una vera discoteca in Giappone Ah ecco Sì perché il video è tutta una roba Ci sono rimasto molto male No 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 Il Giappone noi non avevamo neanche Non sapevamo neanche dove fosse Ma non la possibilità di arrivarci Neanche sapere in che direzione si dovesse andare Guarda questi che fighi Io vado a ballare a 500 metri da casa mia No no invece il venerdì andavamo sempre a Tokyo Sempre a ballare a Shibuya Che si va stasera Tokyo? Vabbè dai No no era solo che ci siamo ispirati a quel mondo lì A me è sempre piaciuto il mondo dei fumetti In quel caso dei manga, degli anime E ci siamo ispirati visivamente a quell'immaginario lì A proposito di cose visive Nel videoclip discoteche abbandonate vediamo un sacco di discoteche quasi post apocalittiche Anche prese con le piante rampicanti che hanno preso possesso dello stabile Il Goya Sassuolo, forse era il Goya Forse era il Goya È vero il Goya Mi stanno arrivando tanti feedback Vedo messaggi che in tanti sottolineano che potrebbe essere il Goya Grazie mille Mi hai bloccato il ricordo Tu sei andato al Goya Sono andata Ah ok Io mai Andavo al bebop di Felì Non so se tu l'hai mai No no quello non Dicevo in queste immagini Vediamo anche tu dicevi Chissà perché sono diventate così Perché non hanno retto al cambiamento Ah sì perché sono dei mondi Era un mondo completamente diverso Cioè negli anni 80-90 inizio inizio 2000 Erano club sostanzialmente spesso molto grossi Ma in generale discoteche molto generaliste Non c'era ancora la club culture che è arrivata dopo Quando non si chiamava più dance ma si chiamava EDM Quando c'è stata poi la settorializzazione Delle varie tendenze di musica da ballo Quindi all'epoca erano locali anche grossi O comunque locali in cui si vivevano situazioni diverse Sera per sera Ci poteva essere la serata quasi liscio Per dire e dopo quella house Quella techno Forse dopo quando appunto La musica densa ha avuto una sorta di Diciamo di rivalutazione intellettuale È diventata un genere Cioè con i DJ che sono diventati delle superstar mondiali Quella roba lì probabilmente non era più adatta Oggi i club sono posti che paradossalmente Costano molto di più ma per meno persone Quindi è più una roba fighetta Concedetemi il termine All'epoca eravano dei tamarri E si andava nei locali tamarri Però la techno di Berlino è stata Adesso è patrimonio immateriale dell'UNESCO Questa è una grandissima soddisfazione Per chi ha sempre amato quel mondo Perché vuol dire un po' rivalutarlo No no sì ma poi loro Poi a Berlino sono riusciti a farlo diventare Un fenomeno culturale pazzesco Pensa al Berghain Che è un monumento Dove tra l'altro non fanno entrare Diletta Leotta Cos'era successo? Recentemente avevano rimbalzato Avevano rimbalzato sì Una celebrità Sì Diletta Leotta con Carius Forse più per Carius Come portiere Sai bene che se andavi con una maschiata Facevi fatica a entrare Sì certo Dovevi avere le ragazze di copertura Quelle che diceva Va bene veniamo con voi Ci date un passaggio in macchina Ma noi vi facciamo la garanzia per entrare Quelli sono con noi Ah vabbè allora No e appunto È sicuramente un È diventato La musica Diciamo L'IDM è diventata in generale Un grande patrimonio per l'umanità Perché si è capito che in fondo Era un fattore culturale quello E non semplicemente un Andiamo a sballarci Che era un po' Il diciamo Il leitmotiv Dei mezzi di comunicazione Dell'epoca Si pensava che la colpa Di tutti i disagi giovanili Arrivasse dalle discoteche Le discoteche Sono in gran parte estinte Ma i disagi giovanili ci sono Forse ancora più grossi E adesso si cercherà Un nuovo colpevole Probabilmente Beh adesso noi abbiamo parlato Del mito delle discoteche Degli anni 70, 80, 90 E anche 2000 E adesso ascoltiamo invece Sei un mito 883 Dal 1993 Ci ribecchiamo tra poco Su Radio Bruno Con Max Pezzali Sei un mito Su Radio Bruno 883 Max Pezzali Qui con noi Max Pezzali Che è un mito È un mito La leggenda però È anche l'amico Della porta accanto Quello che è cresciuto con noi Sono l'anziano Della porta accanto Esatto Quello è il vecchio No scherzo No no assolutamente Tu non sei mai invecchiato No sono invecchiato Però cerco di Di stare nel mio E di continuare a A fare Insomma Quello che mi piace fare Fondamentalmente Raccontare il mio mondo Che è quello sicuramente Di allora Ma Anche il Cercare delle correlazioni Tra quel mondo là E quello di oggi Un po' il senso Del singolo Cioè Vedere Come il nostro mondo Si è cambiato Nel frattempo Fondamentalmente E quello Secondo me Ti aiuta Perché Cioè Non ha senso oggi Fare il giovane Che racconta Le stesse cose Che è meglio Che raccontino I contemporanei Cioè i giovani di oggi Secondo me Quello che serve È Cioè Se c'è un senso Nel fare una canzone A 56 anni È raccontare qualcosa Che uno diventi Non può per ragioni Anagrafiche raccontare Quello è il discorso Beh discoteche abbandonate È un po' il senso Un po' quello lì E tra l'altro diventerà Anche un comic book Che unisce quindi Le tue due passioni Esatto A due delle tue Tante passioni A dire il vero Esattamente Le passioni Perché appunto Grazie a Roberto Recchioni Che è uno dei più forti Autori E diciamo Disegnatori Del fumetto italiano Un genio assoluto Avevo già avuto Occasione di lavorarci Siamo entrati In grande confidenza E quindi Sono molto Libero Nel dirgli Le cose che mi piacciono Del mondo del fumetto E quindi mi sono trovato Un po' a casa Perché è come ritornare bambini No? Cioè Hai la possibilità Di far disegnare Le storie che vuoi Che figate Nel senso Cioè È il sogno Di quando ero piccolo Farmi da solo i fumetti E quindi È un modo Anche lì Per avvicinare Appunto Il mio Cioè Ritrovare il mio passato Anche da quel punto di vista Anche dal punto di vista Del fumetto Che era una grande passione Lo è ancora Poi fondamentalmente Ma la trama Di questo comic book? Diciamo che È Ha una È Ha un'ambientazione Un po' post-atomica No? C'è un po' Quelle robe tipo Fallout Zalesto Vasco Il mondo lì Un po' Videoludico Del dopo la catastrofe No? È un po' lo scenario Che vediamo nel videoclip Esattamente Cioè Dopo la catastrofe Non sappiamo ancora Di che catastrofe Si tratti Però È quel tipo di Di situazione lì E di atmosfera lì Non si parla di catastrofi Ma di grandi inizi Invece nella serie tv Che arriverà Tra qualche mese Tu hai già visto qualcosa? Sì ho visto le prime tre puntate È molto Molto divertente Molto bella Realizzata da Dio Da appunto Sidney Sibilia Che è un regista Pazzesco E che È molto appassionato Si è molto appassionato A questo progetto Proprio dal giorno 1 Da Da tanti mesi Quasi anni Direi Si è cominciato a parlarne Quindi Non vedo l'ora Di vedere gli altri episodi Che dovrebbero essere pronti A breve E appunto La stagione 1 Andrà in onda Da ottobre Credo Su Sky E quindi E poi Poi abbiamo C'è L'altra cosa Secondo me Che L'altro progetto base È il tour Di quest'estate Che secondo me Sarà molto molto divertente E anche lì Ci sarà il mio ritorno Ai fumetti Pupazzi sul palco Cose strafighe Quindi insomma Sfrutteremo bene Lo spazio Che gli stati Ci danno a disposizione Io volevo chiederti Una cosa invece Sulla serie tv Che verrà Raconterà appunto Tutta la carriera Insomma soprattutto Gli inizi E proprio sull'inizio Mi ricordo una cosa Ma ti chiedo Di farmi un po' più di luce Vi presentate Da Claudio Cicchetto Tra l'altro Oggi è suo compleanno Sì Tanti auguri Claudio Gli presentate Dei pezzi Dici sì Portatemene altri E voi sparite Tott giorni Per ritornare Con dei brani Nuovi Da presentarvi Sì perché Avevamo effettivamente Cioè Allora un po' di canzoni Le avevamo già fatte E però Non avevamo Tutto il materiale Per fare l'album E quella roba lì Quindi Ci è stato chiesto Ma avete altra roba Certo Come no Ma che scherzo Ma che scherzo Siamo andati a casa E ci siamo messi Tipo Ma nel giro Adesso non ricordo il tema Tipo tre quattro giorni Il tempo di Poi ti richiamiamo Sì E cioè Mettendosi sotto Tipo a A un livello Di Cioè Veramente da impazzire Però con Non avevamo neanche L'idea di partenza Cioè partendo Buona Buona la prima Buona la prima Buona la prima E sono usciti Dei pezzi Che poi Nel primo album Ma adesso non ricordo Esattamente quali Ma tipo Pezzi come Weekend Di cui avevamo Una base Che era diversa Quindi l'abbiamo dovuto Fare al volo Completamente diverso Forse una roba Tipo Se è uno sfigato È nata In quella Sessione lì Cioè Non ce n'è come La necessità Sai quelle robe Che dicono Perché scrivere le canzoni Tutti pensano Che sia un Vabbè Ti metti Quando arriva l'ispirazione L'ispirazione Non arriva mai Se non la cerchi Devi essere in qualche modo Obbligato a fare delle cose Il pittore si mette anche ore Davanti a una tela bianca Max tu rimani ancora Qualche minuto con noi Adesso momento nostalgia Karaoke E uno dei tuoi pezzi Più intensi Gli anni Esatto Radio Bruno 883 E vedo le fedi Alle dita dei due Che porco Giuda Potrei essere io Qualche anno fa Esatto Hai pensato Max A il tuo piano B Se tu dovessi vedere Max Che non fa Quello che ha fatto Fortunatamente Aggiungo Ma no Io allora Sono convinto che Cioè Io ho cominciato a fare questo A 25 anni Cioè farlo professionalmente Quindi Ormai È Molto Più che doppiato Cioè è più il tempo Che lo faccio Che non quello Che ho passato Non facendo Quindi Io all'epoca Non avevo ancora Avevo Ero ancora all'università Non riuscivo a trovare La mia facoltà Non riuscivo a trovare Qualcosa che Insomma Qualcosa che mi piacesse fare Fondamentalmente E Io in quel momento Ho detto Mi ero preso Un anno sabbatico Ho fatto L'anno di militare Nel servizio civile In Croce Rossa Se le cose vanno così Cioè vediamo come va Con la musica Se va male Io avevo il sogno Dato che stava partendo Tutta la roba del 118 Nelle ambulanze Eccetera Di diventare Un autista Di ambulanze Professionista Perché quella roba lì Secondo me Diventava Molto interessante Mi piaceva Era una cosa che Probabilmente avrei fatto Quello E comunque Anche forzandola un po' È sempre ambito medico Perché le tue canzoni Sono sempre state Spesso Medicine Grazie No io era Poi mi piaceva Quel mondo lì Il fatto che Partivi per un'urgenza E non sapevi cosa trovavi Perché era ancora un po' Cioè non c'erano I cellulari D'apertura Insomma era tutto Un mondo di avventura Un po' quello E poi dovevi affrontare L'imprevisto Ecco era quella roba lì Che è un po' quello Che mi ha aiutato Quando vai su un palco Perché lì c'è sempre L'imprevisto E non devi aver paura Della cosa Dell'imponderabile Quindi Adesso Quel tipo di adrenalina Lì ce l'hai Quando sali sul palco Beh hai realizzato Tantissime cose Nella tua vita Ma io penso che La cosa più bella Che tu abbia realizzato Che tu hai realizzato Sta per compiere 16 anni Sì a settembre Compie 16 anni Diventato grande Il tamarro Sì 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 È diventato È tamarro No ma non tantissimo Cioè nel senso Gioca un po' a fare il tamarro Però sa Che sono tamarrate Cioè Ha la tamarragine controllata Lo fa per essere Diciamo Per divertirsi con i suoi amici A strippono Però poi In realtà Sa Cioè si sa comportare Anche quando lo porti In altri posti Sa come muoversi Però ecco È più che altro La cosa divertente È che Adesso appunto Vive con me Non vive più a Roma Quindi lo vivo Nella quotidianità Sostanzialmente E per me È essenziale Perché oltre al fatto Proprio affettivo Del sentimento Che ci lega Chiaramente C'è anche il fatto Che per me È una finestra Sulla contemporaneità Pazzesca Cioè tu vedi Il mondo Hai un Cioè Hai uno spaccato Di quello che succede E dici Cioè comunque Poi Hai gli strumenti Che se non avessi Un ragazzino In casa Non potresti avere Cioè capisci delle cose Che normalmente Ti sfuggirebbero sicuramente Poi ti porta feedback Magari anche qualche consiglio Indirettamente Sì 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 Perché lui Cioè ascoltando anche Cioè guardando le sue abitudini Il modo in cui ascolta le cose Il modo in cui Capisci Che c'è un Un abisso Tra come si raccontava E si sentiva Quando ho cominciato io E oggi Cioè proprio anche il songwriting Le canzoni sono diverse Adesso al di là del fatto Che c'è del rap Della trap E che proprio Sono mondi diversi A punto di vista della comunicazione Ma come si costruisce la canzone È cambiato in maniera abissale Anche la durata La durata Il fatto che le cose Debba succedere qualcosa Che ti tira dentro Già subito Dentro i primi 10-15 secondi Sennò Minchia schippano avanti Cioè non Diventa Diventa noioso No E proprio perché Sono più veloci Ci vuole molta più Devi essere Cioè non c'è più lo spazio Il tempo Per far Far crescere la canzone Deve arrivare subito alta O perlomeno crescere Entro 15-20 secondi Non di più Beh ti posso dire Che la canzone Che ascoltiamo adesso È del 1992 Dura più di 4 minuti Ma oggi ti mandano in galera Ti mandano a casa la finanza Alle prime due note Alza il volume Perché è Hanno ucciso L'uomo ragno Ma pensa oggi La canzone di 4 minuti Ma ti dicono Guarda è illegale Ti mandano Qualcuno lo fa ancora Sì però Con gravissimo rischio Per la propria incolumità Hanno ucciso L'uomo ragno La voce di Max Pezzali 883 Qui ospite Negli studi Di Radio Bruno E adesso cominciamo Un po' a parlare di tour Perché a giugno Il 9 giugno Si comincia Si comincia Non vediamo l'ora Non vediamo l'ora Perché appunto Usciti da un tour Nei palazzetti l'anno scorso E dal Circo Max Che era questo concerto Al Circo Max Meraviglioso Non mi sono mai divertito tanto Forse ecco Alla pari con San Siro L'anno prima Però ecco Qui si torna E si va negli stadi Finalmente con tutto un tour Completamente negli stadi Per me è un'emozione pazzesca Perché farlo A magari 25 anni 30 anni Non te ne rendi tanto conto Ma alla mia età Ti godi Ogni singola Cioè proprio È un punto d'arrivo pazzesco Per certi versi E sarà La possibilità Ci sarà la possibilità Per noi Di fare una Un allestimento enorme Pazzesco Con Ci saranno Così tanto Per dare delle dritte Prima di tutto Ci saranno dei pezzi Che cambieranno Di sera in sera Quindi c'è una variazione Poi recupereremo Delle canzoni Che non siamo riusciti A fare Nelle altre Diciamo Negli altri tour Quindi canzoni Dell'inizio Che magari Abbiamo dovuto tagliare O mettere nei medley Quelle robe Le facciamo per esteso Quindi ci divertiamo E poi Beh poi ci sono Dei personaggi Delle canzoni Cioè tipo il Deca La regina del celebrità Il 2 di picche Che è uno dei grandi Protagonisti della mia vita Non solo Penso anche Che diventano personaggi Pupazzi Che si muovono con me Sul palco Fondamentalmente E poi momento Discoteche abbandonate Che però riprendono Riprendono vita Cioè Grazie a questo pezzo Che fa un po' Da pretesto Prendiamo tutte le canzoni Appunto Mie degli anni 90 In cui magari C'erano stati Dei remix Anche importanti No Datura Cioè Mille mille remix Ecco Le faremo In quella versione lì E quindi si trasformeranno Gli stadi In un'enorme discoteca Cielo aperto In cui ricreeremo Un po' Quell'atmosfera lì Quindi sarà Un'atmosfera Ci sarà anche L'atmosfera Disco anni 90 Che farà molto ridere Secondo me Tra l'altro Li fai proprio In piena estate Cioè Quando c'è il sole Molto alto Quindi il buio Arriva tardi Tu arrivi sul palco E vedi ancora Tutti in faccia Siamo un festival bar Praticamente Meraviglioso All'interno del concerto Allora Max Forever It's Only Le date dai 9 giugno a Trieste 19 giugno a Torino 22 23 giugno Invece a Bologna È una delle due date Quella del 23 È già soldato Esatto Poi il 27 A Roma Il 30 giugno Il primo luglio E il 2 luglio A Milano A San Siro Poi 9 luglio A Messina E il 13 luglio Gran finale Allo stadio San Nicola di Bari San Nicola di Bari Che meraviglia Dove facevano Il trofeo Birra Moretti Anni fa Era una cosa Anche lì Molto anni 90 Tra l'altro San Nicola Era se non sbaglio Il protettore Dei giovani E degli amici Quindi Tutto il tema amicizia Che è sempre stato Molto forte Molto presente In tutti i tuoi dischi L'ho vista così Un po' romanticamente No no ci sta L'amicizia Poi mettiamoci anche San Nicola San Nicolaus Santa Claus No quindi Babbo Natale Nasce da lì Non so Se non vuol dire niente Però è figo dirlo Così riporteremo Anche un po' di Natale No questa cosa Di bei sentimenti Di buoni sentimenti E beh Grazie per averci regalato Questo bel pomeriggio insieme Grazie finiti a voi E ci vediamo live Naturalmente Esatto Esatto E grazie finiti a voi E' stato bello Ritornare a raccontare Un singolo Come si faceva Nei tempi in cui Si facevano i singoli Così no Andare in radio Fare il cosiddetto Radio tour Questo singolo Che tra l'altro Non è disponibile Sulle piattaforme C'è solo su Youtube Arriverà sulle piattaforme dopo Ma proprio perché Secondo me Era figo farlo così Come una volta Solo col cd Però ecco Ecco Mixed by Harry Esatto Qui abbiamo fatto La cassetta assolutamente illegale Non è vero che è illegale Perché essendo noi quelli che hanno fatto la cassetta Però è una cassetta È registrata Amatorialmente Con questo Con questo singolo Con discoteche abbandonate E ne abbiamo fatto una copia Appunto Col pennarello Firmata Che diamo simbolicamente a voi Grazie Max È bellissimo Grazie Grazie a voi Grazie a voi davvero dell'ospitalità Noi ci salutiamo Con una delle canzoni Mi dicono più suonate Ai matrimoni Esatto Speriamo che porti bene Poi Dice colpa tua E no Io Spero che funzioni Poi non si sa mai Funziona Funziona da anni Come mai 883 Grazie a Max Pezzali Grazie a tutti